dovrebbe essere tutto pronto si va agli ordini dello start partiti sui primi isnello con allo steccato fast in the sun poi miss rocks isnello miss rocks che ora prova a passare poi a largo a peyron sopra andulan vediamo le posizioni come si concretizzano dovrebbe essere fast in the sun nelle prime posizioni insieme a rose and fire all'esterno dei due c'è sempre a peyron questo è il terzetto che comanda su do your best isnello e sopra andulan in questi primi sei poi in settima posizione dangerous point a peyron forza su rose and fire in terza corsia dietro i tre sopra andulan con dentro isnello e di fuori sempre do your best sulla curva schema immutato fast rose and fire a peyron sopra andulan che ha nella scia dangerous point quando si sta per entrare in dirittura tra i primi sono a peyron rose and fire fast in the sun isnello sopra andulana che fa lo spunto insieme a live your life e allargo dangerous point poi allargo di tutti i bardelli lontano dai cavalli con due di botti nel mezzo uno di endo a lottare sono dangerous point allargo di tutti i bardelli e nel mezzo live your life con allargo di tutti i bardelli contro dangerous point e nel mezzo tra i due live your life nel finale dangerous point batte bardelli e terzo live your life gira che ti rigira è sempre stefano botti in questo caso con l'accoppiata non di scuderia vince dangerous point la saura della new age che batte bardelli terzo nova sbarra live your life 3 2 10 è l'ordine d'arrivo di questa corsa 3 2 10 per il quarto posto vediamo chi è il quarto posto bene miss rocks davanti a isnello bene e Grazie a tutti.